Non ci aspettavamo una prestazione così perché non alleniamo molto il doppio insieme ma siamo molto in sintonia e abbiamo fatto una bella prestazione contro due russi che sulla carta avevano ottimi risultati e quindi siamo molto contenti, peccato perché nel primo set avevamo due match point che non siamo riusciti a sfruttare al meglio ma sicuramente è stata una bellissima esperienza, un bellissimo match. Sicuramente c'è un po' di pressione dal punto di vista della prestazione perché comunque giochi in casa, nonostante il livello sia alto la pressione, poi comunque giocare il doppio con Fabio alla fine mi aiuta anche psicologicamente così è molto più facile dal punto di vista della pressione. Sono arrivato prima alle Olimpiadi e squadre e non se l'aspettava nessuno, io per primo non me l'aspettavo quindi è stata una grande sorpresa. Poi hanno giocato gli europei a Tallinn e è stata una bellissima esperienza perché abbiamo fatto tanto gruppo con gli altri giocatori, quindi ci sono anche divertiti tanto. E per quanto riguarda il mondiale l'ultima esperienza dal punto di vista junior era quindi un mix di emozioni molto belle però sono molto bello. Nel 2019 inizierò a fare strane di senior quindi vedremo un po' come entra il livello, sarà molto diverso e speriamo bene. Grazie.